Sono l'ultimo a richiare le due cose. Bravo, Giorginelli, Borsanese Calcio, campione regionale, eccellenza! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Siamo noi, siamo noi, i campioni della prima volta siamo noi! Siamo noi, siamo noi! Siamo noi, siamo noi! Siamo noi, siamo noi, siamo noi! Siamo noi, siamo noi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!